Tra 72 ore la Roma sarà di proprietà di Dan Fridkin. Il passaggio avverrà attraverso un giro di procure inviate via PEC tra il Texas, Londra e Roma, che dovrebbe portare al tanto atteso closing lunedì 17, salvo rinvii tecnici che al momento nessuna delle parti ha richiesto. Fridkin, consapevole della propria scarsa conoscenza del calcio italiano, vorrebbe entrare nella nuova società con discrezione senza imporre subito manovre rivoluzionarie che, vista la situazione attuale, avrebbero poco senso. Il tycoon infatti ambisce a una crescita graduale distribuita sul lungo periodo. Da parte sua invece Pallotta si prepara a lasciare la società giallorossa anche se in realtà l'imprenditore italo-americano si era già progressivamente allontanato dagli affari della squadra, attirando su di sé le critiche dei tifosi inizialmente favorevoli alla sua politica aziendale. Ormai manca quindi veramente poco all'inizio di una nuova era per la Roma, ma c'è ancora qualcosa di strano. Pallotta ha chiesto ai dirigenti in carica, da Fienga in giù, di non avere contatti con Fridkin e il suo staff fino alla conclusione dell'affare. Che l'ormai ex patron giallorosso non sia ancora del tutto convinto? Chiusa l'esperienza al Napoli dopo sette sezioni, José María Cajéon ha voglia di tornare a casa. Scaduto il contratto con i parte europei, il 33enne attaccante ex Real Madrid, riporta e stadio deportivo, vede il suo futuro nella Liga. Se l'ipotesi atletico Madrid appare complicata, più realistiche le piste che portano a Siviglia e Betis. Nel primo caso Cajéon ritroverebbe Julien Lopetegui, che lo aveva voluto in nazionale, ma dovrebbe giocarsi il posto con Suso, mentre il benito Villamarín, Pellegrini, che chiede ai giocatori di esperienza, gli darebbe maggiori garanzie di impiego. Le strade della Juventus e di Blaise Matuidi si separano dopo tre stagioni. Il club bianconero ha salutato il giocatore francese con una lunga lettera aperta sul proprio sito web. Con i nostri colori allottati in ogni singola partita, in pressione costante sugli avversari, strappando una marea di palloni e rilanciando l'azione. Ora, dopo tre stagioni, cinque titoli vinti, Blaise Matuidi e la Juventus si salutano in seguito alla risoluzione consensuale del contratto. Sul proprio profilo Instagram, il Transalpino ha salutato a sua volta la Juventus. Essere stato un membro della famiglia Juventus è un sogno che si avvera, un onore. Ho scoperto un'istituzione incredibile, compagni di squadra che sono diventati molto di più. Rimarrò sempre il tuo fan numero uno, o meglio, il numero 14. Grazie Juventus, grazie davvero. Sergio Perez potrà correre nel Gran Premio di Spagna. Il pilota della Racing Point era risultato positivo al test per il Covid-19 ed era stato escluso dal doppio appuntamento di Silverstone. Al suo posto era subentrato Nico Ulkeberg, che era riuscito a conquistare una buona settima posizione nella seconda gara britannica. Ora però il messicano è risultato negativo al tampone e la FIA ha dato l'ok per permettergli di tornare nel Circus. Lo ha reso noto la scuderia tramite una nota sul proprio sito internet. Sono molto fortunato ad aver avuto solo sintomi lievi, quindi sono riuscita a continuare ad allenarmi e ad assicurarmi di essere pronto per tornare al volante della macchina, ha commentato Pérez.